Prova che parte regolarmente, noi ne approfittiamo intanto per comunicare i nomi delle 16 atleti che superano in turno, una gara sprint a live di femmine, che hanno conquistato i primi 16 e i principi maggiori risultano essere le secondi di Oscar Giorgia, Ragonica, D'Arcimistiano, Betonio, Giulia, Vincisara la 20 mattina, Niccoli Pilebra, compadonieri Carolina, Coranilea, Alevi Giorgia, Carimbertia Vincenzi, Vincinzi, Ilaria Ligano Giugia, Colocogliese, Vincisara e Rondone, Alessia Questi 16 atleti andranno direttamente in quarti di turistica 5 di riferimento per questa batteria 37 e 33